Dodido sei ancora vivo caro come va? Mi sono preoccupato tantissimo No! Bellissimo! Non ci posso credere! Ma è fantastico! Guardate sono messi apposta lì che mi stanno aspettando Vabbè mi si è incazzato Guarda che cazzo corre! Tacci di pippo ma... Ok ci siamo allora ciao a tutti per i brutti e so che segnalare se il video è benvenuto a questo nuovo video dedicato attenzione attenzione a Dark Survivor Ascended Mi sto ricollegando al server The Dark Tiger con la Gesualda C'è una notizia brutta probabilmente si è morto ancora il dodo perché ero fuori nell'isola C'era praticamente un animale con l'ultra istinto di Goku attivo che ci ha attaccato e improvvisamente non si è riuscito a scappare Mi è saltata la corrente Quindi mi sa proprio che... Sono morto io vabbè c'è il relettino Ma il dodo mi sa che ce l'abbiamo Bello che salutato Però mi ha scritto l'admin Mi ha detto che mi ha messo un... Mi ha dato delle risorse Vediamo un attimino come va Come va? Non so per quale motivo appena... Io adesso sono sul loro Discord Non so per quale motivo Mi ci mette ogni volta un'ora Veramente un'ora per collegarmi Al... Al server Vabbè in questo caso 35 minuti Allora ho provato a fare qualche video di Winter Ma non riesco ad andare avanti Mi si continua a saltare E... Ho scoperto un po' la mappa Ho provato a catturare un drago Cioè... A questo paio ci sono le viverne E... Non trovo le uova Niente... Boh... Vintel... Poi mi crasha Ha crashato tre volte Quindi ho fatto un'ora e mezza di registrazione Praticamente dove non ho fatto niente A parte esplorare la mappa Quindi... Non la pubblico Vedo se riesco a fare qualcosa Eh... Ho visto che ci sono tante Ragno Knada Vedo se riesco A intrappolarne una Eh... Devo guardarmi bene la cosa del Ragno Knada Lo porterò avanti Poi magari... In settimana farò un altro episodio D... Della partita in single player Sempre con la Gesualda Ma a questo giro A questo giro Con... Su Astreos Ok... Allora... Forse ci siamo Allora... Sta caricando Allora... Scopriremo se... Il Dodo è ancora vivo Oh ma... Non credo perché quello lì mi pare che era 145 No... Infatti siamo morti Il letto c'è ancora Eh... No... Mi sa che non c'è più il letto No... Sì... Rinasci dal letto semplice Allora... La base... Non so se... C'è ancora... O... Sì... C'è... Allora... E... Ok... Vediamo se il Dodo c'è ancora Non credo eh... Non credo eh... Ne dubito... Eh no... Invece no... C'è ancora il Dodo... Il Dodo... Il mitico Dodo è ancora vivo... Dodo... Non deve stare il mio Dodo? Dodo... Dodo sei ancora vivo... Caro... Come va? Mi sono preoccupato tantissimo... Eh... Ho perso il loot... Perché ovviamente non ha... Non ha... Ero morto qui... Quindi di conseguenza... Però il Dodo è ancora vivo ragazzi... Incredibile... The best of Dodo... Grande sei ancora vivo... TVB... TVB... Lo sapevo che non mi avresti abbandonato... Allora il peso... Danno la mischia... Eh... Il mio loot non c'è... Vabbè dai... Chi se ne frega ragazzi... Guardate che il Dodo è vivo... Quindi il tizio lì... È sparito... Ok... Eh... C'è uno che vola? Ok... Per la Gesuale grande... No ma... Il mitico grande... Pazza come fluttuò... Lui sì che è Dragon Ball... No... Qualche si faceva... Ah così... Allora è saluto... Non ho capito... Così vi è fatto... Non è saluto... Bentornato... Perfetto... Evvivo... Facciamo un evviva... Allora mi ha detto che... Allora... C'era una password... Perfetto... Appena riesco a capire... Come si fa... A fare il... A scrivere i chat... Vi pare che c'era? C'era un modo... Una volta... Non mi ricorderò... Da tanto che non lo facevo... Però vabbè... Già che il Dodo è ancora in vita... Sono contento... Ciao Tadino... Ciao Tadino... Come stai? Tutto bello... Bello... Allora... Vabbè... A sto punto... Io dico... Seguimi... Mi perdoni... Lei è geloso? Ok... Dai... Mi venga... Mi venga incontro... Poi... Ma che vado... Ci espandiamo un attimino... La basetta... Dove sta? Ok... Qua è il Dodo... Allora... Abbiamo un po' di robe... Ehm... Metal... Ok... Ah... La lapide! No... Avrei visto il video... Dove... Dove chiedevo di fare la lapide... Per il Dodo morto... Me l'ha messo... Mi ha dato anche quattro di queste... L'arbatura... Mi ha messo... Grande... Ehm... Perfetto... Dai... È stato gentile... Guardate... Mi ha dato delle cose... Adesso ci mettiamo la lapide... Per il nostro Dodo... Ah... Questo qua che ci serve... Poi ci facciamo un po' di risorse... Questi qua... Non so che cosa siano... Forse le Crio... Eh... Non fare il timido... È anche casa tua... Questa Dodo... Ah... La Crio Capsula? Figo... Figata... Bello... Bello... Non so come si fanno... Quindi... Forse un giorno glielo chiederò... Ah... Mi ha dato anche uno di questi... Due di questi... Ne piazziamo... Poi ma che vada ci espandiamo... Eh... Vabbè... Primo momento lo mettiamo qua... Poi... Un giorno... Le userò... Queste non so cosa siano... E... Questo non so cosa sia... Questo cos'è? È un D... Ma... Ma il Dodo l'ho messo... Ah... Forse... Mi ha... Mi ha rigenerato il Dodo che beve... Che mi era morto? Vediamo... Eh... No! Bellissimo! Non ci posso credere! Ma è fantastico! È fantastico! Grazie! Beh... Il colore è viola... Dai... Piacerà la Lia! Bello! 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 Ci garba! Ci garba! Ci piace! Guardate un attivino... La Gesualda... Con sto look... Dark! Fa molto figo... Io direi che ci può... Possiamo lasciarla anche così... Magari... La testa... Mettiamo... Ma che vada... Quello della mod... Ma... Dai! Ci può stare... La Dark Gesualda... La Gesualda... Dark... Ci può anche stare... Bella! Bello! Bello! Mamma mia che bello abbiamo il griffone! Però avete sentito che... Che è il mio... Uno dei miei animali preferiti... Eh... Qua c'è un loot... Ah... Il loot della... Ah... Il loot che avevo perso... Beh è salito sopra al piano... Ecco dove era... Perché ero morto proprio sotto... Allora qua vi è fatto qualche risorsa... Nel metallo... E direi allora di fare cose... Allora siccome... Non voglio... Che mi ci muoia... Vabbè che è 150... Però adesso possiamo volare ragazzi... Adesso possiamo volare... Vigo... Allora non so che livelli mettergli... Eh... Possiamo fare anche la sella volendo... Ehm... Così ce lo rendiamo ancora più faigo... Questa la chiamiamo... Cos'è? Femmina... La chiamiamo Lia... Visto che alla Lia piace... Piace... Viola... Intanto se volete... C'è il Discord... Ciao benvenuto... Tedarka... Ok... Questo qua... E' messaggio di default... Per il momento... Non gli do... Non gli do... Livelli... Minchia bellissima ragazzi... Vuoi che ne dite? Lasciate un like... Sottato per questo grifone... E' troppo bello... Ehm... Niente... Direi di andarci a fare una... Una visitella... Diciamogli di... Di stare fermo al Dodino... Vabbè che non è capace di... Ehm... Di aprire le porte... Però... Sai... Non si sa mai... La fruttore cieca... La sfiga ci vede benissimo... Ehm... Mettiamoci... Visto che è rimasto qua... Questo qui... E lo mettiamo qua... Dai... Allora... Tacchete... Ha qualche livello da... Da aggiungere... Allora... Un tricerapto... Potrebbe anche servirci... Vediamo un po' qua... Che animali ci sono... Vediamo un attimino lì... E' un oviraptor... Di livello 145... Potrebbe essere anche utile... O si deve far svenire... E poi... Gli si dà delle uova... Che io non ho... Allora... Vediamo di... Se possiamo catturarci cose... Intanto qua c'è un altro oviraptor... Non so di che livello è... Vediamo già così di base... Quanti livelli toglie... Vabbè... Manco fa così... Mamma mia... Era... Era un test così in amicizia... Allora controlliamo un pochettino... Allora... La mappa ancora non è completa... Da quanto ho capito... E molte cose... Le hanno... Ancora non le hanno espansa... Quindi... Se è già bella così... Pensate un po' quando la finiscono... Ok... Io però non volevo rischiare di... Perché io so... Sono un pochino... Cos'è quella roba là? Cos'è un... Dinosuchus? Solo che non ho capito... Io non sono molto esperto ragazzi... Eh... Io ho questi animali... Tutti particolari... Che sbrilluccicano... E già tanto che riesco a tamare... Quelli normali... Pensate un po' a quelli... Sbrilluccicanti... E lì c'è un altro che ha... L'effetto del... Di... Di... Di Dragon Ball di Goku... Ultraistinto... Allora so che me ne pentirò... Cerchiamo di vedere cosa c'è... No... No... C'è troppa gente... Cattiva... Guardate... Sono messi apposta lì... Che mi stanno aspettando... Ho detto dai... Aspettate che... Che scende... Tazzi di Pippo... Intanto qua c'è un altro villaggio... Ok... Allora qua in teoria... Non dovremmo rischiare... Rischiarci male... Qua c'è un dado femmina... Vediamo cosa troviamo qua... Vabbè... Bellissimo... Il grifone... Mamma mia quanta roba... Tanta roba il grifone... Veramente molto bello... Ok... Perché c'è il rumore del... Dell'attacco... Vabbè... C'è uno che ci controllava... Allora ultima morte... Quindi noi siamo di lì... Non mi rileva il dinosauro... Il dodo... Vabbè... Vabbè... Eh... Se è così... Poi fa dei colori un po' strani... Un po' bizzarri... Cos'è? La planata dura tantissimo... Poi questo... No... Forse era una mia impressione... Era solo una mia... No... Ma dov'è quanto dura? Vabbè... Ci siamo... Questo qua ce lo togliamo... No... Buoni... Buoni... Oh... Che vuoi? Ma... Vabbè... Mi si è incazzato... Guarda quel cazzo corre... Tacci di pippo... Ma... Affan cuore... No... Via... Via... Pazza... Quanti danni ci fa? Non è che non ho dato neanche un livello... Eh... Oh... Buono... Vabbè... Allontaniamoci... Diamo un po' di livelli... Non vorrei che... Devo farmi un pochino la base... Un pochino... Cioè... Ma dovrei ampliare un attimo... Perché così... Onesto... Metti caso che... Prima di andare a cercare qualche animale... Visto che comunque è un server... Non vorrei... Rischiare... Di perdere qualche animale... Quindi dovrei espanderlo un attimino... Mi faccio delle mura... E... Vediamo un attimino... Facciamogli mangiare un po' di roba... Quei fatti diminui il cibo... Se c'è l'acqua... Perché non mangio... Sta roba qui... Non... Non mangio... Non mangio... Non mangio... Non capisco per quale stram motivo... Ehm... Probabilmente è un griffone particolare. Ma faccio una bella cosa. Per sicurezza me lo capsulo, che non si sa mai nella vita. Ok, dai. No, perché se no lo devo perdere così inconsciamente a questo punto, tanto vale che me lo tengo nella capsula. Gesualda, non mi faccio i capricci, per cortesia. Ok. Allora. Abbiamo fatta la zona crafting. Qua sentiamo caldo. Perché mi rimane aperta la porta, scusa? Qui. Entrano persone strane. Allora, mangiamo ancora un pochino, che mi sa che... Il cibo e cosa... Perché, scusa, mi sono buttato in acqua perché non ha bevuto? Ok. Adesso ci facciamo, mal che vada la pasta cementizia, facciamoci il bancone e robe del genere. Tutte belle cose. Ok. Vabbè, qua una finestrella potevo anche mettercela, eh. Onesto. Ok, così si sta meglio, dai. Ok. Qua mettiamoci... Scusi, dodo, dai. Mi si sposti, mi si mette qua. Ok, se ho diventato parte integrante del dodo. Ok. Qua ci mettiamo, mal che vada... Costituiamo un tavolino. Asserva del metallo. Vabbè, ne abbiamo qua. Mi è già finito? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma mi ha crashato oggi tre volte, quindi non saprei onestamente. Ok, perfetto. Poi Mark Vada ci cerchiamo. Devo capire per quale motivo il grifone non mi mangiava, mi stava morendo di fame. Allora facciamoci il tavolino, poi ci facciamo anche questo cosa che serve, pelle e ce l'ho, poi la vado a fare. Allora facciamoci questo, il tavolo. Eccolo qui. Ule, dai, allora andiamo un pochettino. Allora cominciamo a farci tipo pasta cementizia. Allora, mi serve carne marcia. Olle, accendiamo. Allora, mi serve carne marcia per... Allora, qua che cosa facciamo? Facciamo tipo salute. Anzi no, facciamo danno mischio. Ah no, la tempera. Così almeno non soffriamo troppo di caldo. Intanto controlliamo che cosa possiamo sbloccarci. Questa roba che cos'è? Eh vabbè, è tutta roba delle mod che io ahimè non conosco. Mi espando un pochino la base. Magari mi faccio tipo la serra. Poi me la gioco un pochino anche off-live, offline. Il sottro ci facciamo tipo una gabbietta per il grifone. Appena capisco per quale motivo mi stava morendo di fame. Boh, era stato per ritornare a vedere se era vivo ancora il nostro simpatico dodo. E sono contento che avviera ancora. È stato più un video di crafting ai momenti. Per tamare è l'unica cosa che posso tamare, sono sti dodo, ma... Ancora, sta ancora scappando qua. Ma che problemi hanno? Non so, possiamo provare a prenderci... È problema che non ho né frecce sedative, dovrei farmi le sedative, le cose sedative. La carne marcia a quanto pare non me la fa. Dov'è la carne? Intanto qua mi è arrivato... La carne marcia a quanto pare non me la fa, mi sparisce la carne. Allora, onesto, a me tutte queste cucine non mi servono. Quindi, vada, me ne tengo giuste due. In carrile ci metto poi un bancone. È il cammino, il cammino che lo uso per cucinare. Perché cosa... Sto coso qua... Vabbè, per il momento teniamoci questo, giusto per... Anche se poi verrà sostituito dal cammino. Per il momento tengo questo qua... Metto metà perché un po' mi serve per la carne corta, cioè per la... Mi serve per la carne marcia. Ok, così almeno abbiamo un po' di roba. Questa qua. Ce la piazziamo qui. Io c'avevo della carne marcia. Mi scusi, dodo, non è che per casuale è della carne marcia, no. Servito di livello. Aumentiamo ancora il danno, il nostro... Animale da compagnia, l'unico... Diamo anche la salute. Ok. Un dodo da combattimento, ragazzi. Allora. Questa qua ammazza qua, te le sto facendo. Perfetto. Via. Continuo a produrre. Ok, di legna va bene, ho messo un po' troppo, eh. A dire, essere onesto. Vabbè, alla fine. Ok. La carne marcia mi serve. A questo punto la carne la metto qua. Devo trovare qualche vittima a sacrificare, perché a quattro pari dodo non mi ci muoiono, cioè, zio, per a... A parte che sto coso qua però ci mette troppo a... Vorrei fare un po' di pasta cementizia perché mi serve il cammino, il cammino... Eh ehm... Eh ehm... Eh... Basta la search. Non serve la pasta cementizia. Boh, non so per quale motivo mi ricordava la pasta cementizia. Fiamoci il cammino. E go for it. Noi, no, 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 no. L'acqua animare. Noi, sì. Mamma java. Hoاع вы hocam. Ho. Alla McDow. Ho. 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 ancora che rompere ball ma questi piccoletti quanto frantumoni e coyotes ci mettiamo il pesce e la carne chiamo esco esco con il dodo faccio faccia la strage ha voluto a lui io volevo stare in pace ma lui a quanto pare o vabbè si viva carne e pelle ed è rimasto lì ancora che scappa sto qua basta basta adesso che c'è il mio dodo ti seguo col dodo adesso va in acqua e vai si fermi dodo per la scienza e scappa pure qui vabbè se ci sono il triccerato poi ci sta guardando tipo che cazzo sta facendo sto qua e si mette in mezzo cioè cercano ogni ma secondo me la fa da pace dice basta smettete che avete rotto le palle poi ma che va degli scrivo come come si scrive chat perché non non ricordo come si fa scusate ragazzi ma la qua vedo sta cosa qua ok ok forse ho capito no forse no no alleanza locale tribù globale globale non mi fa mi fa vedere la la chat ma non mi fa scrivere nella chat quindi vabbè poi io lo scrivo e vediamo a parte che non trovo più neanche le cuffie ok pazienza torniamo qua dentro abbiamo preso un po di pelle un po di carne carne però l'abbiamo fatta poca sa cosa la pelle diamogli ancora un po di salute e via allora lo so che lei mi si è affezionato tantissimo ma ok manco fa così allora utilizzo questo come il balcone perché a quanto pare allora via un attimino ok così siamo a posto sia che di carne che di pesce cotto e nulla allora non ho la carne marcia non mi si crea la carne marcia non so per quale strammo motivo sono salita qua di livello lo metto ancora in tempo così almeno non ho problemi di calore perché ogni tanto la gesualda gli vengono le vampate di calore devo capire ancora bene la cosa chiedo scusa ragazzi se se certe cose non riesco a farle ma non questo cos'è prima o poi le capirò in autonomia il bancone mi serve quindi lo farò non so se posso già sbloccarlo penso di sì pietra lingotti legna si posso già sbloccarlo questo pensavo fosse tipo bancone ma quanto pare non lo è pensavo male probabilmente qua ci metto il a questo punto dovremmo riuscire a cantare poi c'è il padre che mi vada mi vada solo anche prima ha preso del sedativo che non ho più c'è un sedativo ma mi è sparito vabbè fa niente allora ma posso già farmi la zattarella possono in giro liberamente per per le acque liberamente poi ci sono i pesci lo stesso i pesci che ci vogliono male appeniamoci i lingotti no ma perché vedete mi prende due volte la faccia così va ok per fare questa cosa viene creo terminal perfetto che ci mettiamo dei lingotti ci mettiamo un po di cose devo cercarmi qualche scorpione o vabbè abbiamo tante cose da fare ragazzi perché ci sono veramente immensità di cose da fare il rubinetto qua come lo faccio mi pare che si faccia il bancone non vuole dire una stronzata acqua non vuole far mettere ok non vuole far mettere ok perfetto in teoria fino alla base dovrebbe arrivarci ma per vedere come il raggio d'azione basta andarci sopra tenere premuto y in questo caso andare su questo qua mostra intervallo mostra intervallo mi fa vedere una capsula una cupola e quanto fare fino alla alla base non ci arriva dovrei fare tipo ecco un recipiente problema che ricevete richiede sicuramente la pasta cementizia e per il momento non riesco a craftare la pasta cementizia ok così almeno rimane conservato tre ore ma tempo che vado a dormire qua mi devo fare un po di roba e nulla ragazzi allora video video pochino solo lo so un po noioso ragazzi lo so un po noiosetto ma perdonatemi sul server sono anni che non ci gioco e e onestamente non un genere gioco in single player giusto per fare i video server andrebbe avrebbe giocato in modo cioè costantemente erano due giorni che non saliva anzi non pensavo neanche che il dodo fosse ancora vivo onesto ed era ancora vivo per fortuna quindi no ragazzi ditemi la vostra io vi consiglio di entrarci è in questo server perché veramente bellino c'è anche il disco l'admin veramente molto bravo vi dà una mano quando quando può quando c'è ovviamente non pretendete chissà cosa però comunque è molto disponibile fatevi se lo scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questo video se vi piace la serie se volete che la continui io ci giocherò probabilmente non farò tanta serie di questo perché comunque c'ho un casino di robe da fare tra le live di twitch vintal probabilmente alla mollo continuerò quella di asti os con la gesualda quella gesualda spartana e poi aveva intenzione di iniziare scorce red problema che devo finire anche fare il boss di the center che me ne sono completamente dimenticato e anche il boss i boss di the island che se non mi sbaglio non li ho fatti con sempliciotto quindi no ragazzi lasciate un like se vi è piaciuto il video anche se non era sto granché scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate dite voi dite voi dite pure la vostra non mi offendo nulla siamo giunti ai saluti un saluto a tutti e belle e brutta vostra questione ares ci vediamo passo video prossima live bella grazie guardi grazie a tutti